Ben ritrovati a Motore Salute, questa sera parliamo di cirrosi epatica e contrariamente a quanto pensiamo tutti la cirrosi epatica è quasi sempre causata da un virus, il virus dell'HCV che in questi ultimissimi anni è possibile radicare. Quindi scopriremo con il nostro gastroenterologo come fare a non ammalarci della conseguenza più grave della cirrosi epatica che è il tumore del fegato. Buonasera, grazie al dottor Floriano Rosina, buonasera, gastroenterologo, medical team. Allora, abbiamo detto che la cirrosi epatica molto spesso non è causata dagli alcolici e non è un buon motivo per metterci a bere troppi alcolici. No, nella maggior parte, ecco, devo dire che una delle credenze più diffuse è quello che la cirrosi epatica sia esclusivamente determinata dall'alcol. Nel senso che quando un paziente si presenta a noi, nella maggior parte dei casi, mette le mani avanti dicendo io non bevo, non so per quale motivo ho una malattia di fegato. In realtà la maggioranza delle malattie di fegato non risultano essere determinate dall'alcol, ma nel 75% dei casi sono determinate dal virus dell'epatite C, in modo predominante dal virus dell'epatite B, che determinano un danno progressivo a livello del fegato, partendo da un danno iniziale di tipo infiammatorio. Poco per volta questo danno infiammatorio va incontro ad una sostituzione da parte di tessuto cicatriziale. Questo tessuto cicatriziale a un certo punto sovverte la struttura del fegato fino a portare alla cirrosi, che può essere anche un evento abbastanza precoce, al suo scompenso con tutte le manifestazioni dell'ascite, delle gambe gonfie, dell'emorragia digestiva e porta anche ad una complicanza temibile perché di fatto sul terreno della cirrosi epatica si può sviluppare il tumore del fegato e le due malattie tendono ad avere spesse volte un andamento parallelo, il cui non si capisce molto spesso quale delle due guida le danze. Allora, è molto difficile accorgersi di avere l'HCV fino a quando non è davvero tardi? Sì, direi di sì, perché al di là di quelli che sono stati studi fatti a posteriori sulla qualità di vita dei soggetti infetti da virus dell'epatite C. Nella maggior parte dei casi, qualunque sia la malattia di fegato, se parli di infezioni da virus C, da virus B, non parlo di alcol perché lì la componente alcol determina un'alterazione di quello che è il benessere generale. Ecco, ecco dottore, c'è anche la componente farmaci? Anche i farmaci possono causare... Beh, è difficile, cioè i farmaci possono più facilmente determinare un danno acuto del fegato, no, renale, ma anche possono... esistono dei farmaci epatotossici sempre di meno, una volta esistevano dei farmaci che per il loro meccanismo d'azione potevano facilmente determinare un danno epatico, adesso è un danno di tipo idiosincrasico, quasi di tipo allergico, cioè a dire che mille persone prendono lo stesso farmaco, solamente una di queste che ha un determinato assetto genetico sviluppa l'epatite acuta, però è difficile che il farmaco determini l'epatite cronica perché in genere l'esposizione è breve, in genere chi prende il farmaco è in qualche modo più medicalizzato, è più facile trovare degli enzimi alterati e quindi mettersi in allarme. No, parlavo piuttosto di altre forme che, come le forme di tipo autoimmune o quelle che attualmente sono molto più frequenti, correlate proprio un po' ai cambiamenti di stili di vita, di sovrappeso e diabete e via discorrendo, che portano al fegato grasso, il quale a sua volta può evolvere in steatoepatite anche in cirrosi essa stessa, però senz'altro in questo momento qui le cause principali sono virus B e virus C ma non lo saranno per molto. In realtà la industria farmaceutica si occupa molto del nostro fegato perché di recente, negli ultimissimi anni diverse aziende hanno sviluppato farmaci che sono in grado di eradicare, e ci fu la grande polemica sui costi, in grado di eradicare il virus dell'HCV, ovvero l'epatite C, e stanno anche studiando come combattere il fegato grasso. Quindi perché le aziende hanno questo interesse importante nei confronti del fegato rispetto ad altri organi? Io non credo che sia un interesse peculiare nei confronti del fegato. Esiste un interesse epidemiologico, si chiamano aziende, per cui di conseguenza esiste un interesse senz'altro di tipo commerciale. Se noi ci troviamo di fronte a una malattia che in Italia attualmente può avere, sto parlando di infezione da virus C, può avere una prevalenza intorno allo 0,5-1%, siamo nettamente calati rispetto a delle prevalenze che vent'anni fa venivano date in certe aree italiane, come ad esempio la Puglia, addirittura del 20%, ecco, cioè, però era una popolazione piuttosto vecchia che raramente ha eliminato il virus spontaneamente, è morta o per la malattia di fegato, spesse volte per cause concomitanti, perché non è detto che tutte le infezioni da virus ci portino alla cirrosi e tutti portano a morte. Senz'altro esiste appunto un interesse commerciale abbastanza... Perché i numeri sono significativi. I numeri sono significativi, però devo dire che anche il successo che è stato ottenuto è stato un successo assolutamente significativo. Lei tenga conto che nel 2005, no, 2007-2008, con il professor Rizzetto avevamo condotto una sorvei nazionale di efficacia dell'interferone della ribavirina, quello che era lo standard di terapia al tempo, e si vedeva che in realtà solamente un soggetto su quattro veniva curato con quell'approccio. Ed era un approccio che, visto a posteriori, era estremamente impegnativo, perché i soggetti dovevano essere trattati con un farmaco, soprattutto l'interferone, che non era completamente scevro da effetti collaterali, dovevano essere trattati per un anno, avendo questi tassi di risposta. Attualmente con i farmaci che abbiamo adesso, che sono monofarmaco, nella maggior parte dei casi sono combinazioni di farmaci, noi riusciamo ad ottenere dei tassi di risposta che sono superiori al 95%. E questo lo riusciamo a fare con un farmaco. Era un po' il sogno di un tempo, no? Cioè la pillola che, senza effetti collaterali e in tempi brevi, faceva guarire. Nell'arco di due o tre mesi, noi riusciamo, con una pillola al giorno, senza effetti collaterali, ad erradicare. Quindi è un successo. Quando arriverà anche la pillola che cura il fegato grasso, chiuderemo i reparti di trappianto del fegato. Può darsi, ecco, no, ma senz'altro è già un qualcosa che i reparti di trappianto di fegato cominciano già ad accusare, per fortuna, ecco. Cioè nel senso che comunque questi farmaci qui possono riuscire a revertire anche delle forme avanzate di malattia. Cioè a dire, non solamente l'epatite, anche soggetti che hanno già una cirrosi, in certi casi addirittura una cirrosi che ha già dato dei segni di scompenso, con l'interruzione della causa. Ma questo vale per tutte le malattie di fegato. Se tu riesci a stoppare la causa che determina la malattia di fegato, di fatto la cirrosi prima si arresta e poi quel tessuto cicatriziale, quella fibrosi che c'era, poco per volta viene riassorbita. Perché il nostro fegato sappiamo che se lo tagliamo e ne lasciamo anche solo un pezzetto nel nostro corpo, pian piano ricresce. Sì, è un organo meraviglioso. Sì, meraviglioso, ricresce più o meno bene a seconda di quella che era la sua struttura originaria. Certo, originaria, certo. Cioè nel senso che se noi tagliamo un fegato sano, ricresce un fegato architettonicamente sano. Se tagliamo un fegato cirotico, ricresce un fegato architettonicamente non perfetto. Ecco, diciamo, è comunque un organo meraviglioso. Perché nel caso dei reni del cuore non succede assolutamente. No, no, ha grosse capacità di rigenerazione. È uno dei pochi organi che hanno grande capacità di rigenerazione. Comunque in ogni caso devo dire che la prospettiva attuale è assolutamente formidabile. Per il fegato grasso... Ma intanto mettiamoci a dieta. È la prima cosa. Ecco, cioè direi di sì, ci mettiamo a dieta e dobbiamo fare dell'attività fisica. Perché vede, il discorso del fegato grasso è una malattia di fegato, ma che ha delle potenzialità di sviluppo, nel senso che in un 5% dei casi può evolvere, può sviluppare la cirrosi e il tumore del fegato. Purtroppo sviluppa il tumore del fegato anche in fase potenzialmente precirrotica. Ecco, quindi questo cambia un po' quelli che sono i nostri assiomi di controllo, di prevenzione del tumore del fegato. Però è una malattia che, a parte questo versante qui, rappresenta comunque una componente della sindrome metabolica e la presenza di fegato grasso, soprattutto quando c'è infiammazione concomitante, di fatto aumenta tantissimo quello che è il rischio cardiovascolare. Tant'è che i metabolisti cardiologici dicono ma cosa ve ne frega voi del fegato grasso perché tanto i pazienti muoiono per problemi cardiologici. Grazie mille. Grazie a voi. Piccola pausa, restate con noi. Buonasera e ben ritrovati a Motore Salute Tg. Il vaccino contro il papillomavirus è sicuro ed efficace. I numeri non lasciano spazio alle interpretazioni. Il vaccino contro il papillomavirus abbatte il rischio di lesioni pretumorali nelle ragazze e non è associato ad effetti collaterali gravi. A ribadirlo, è una revisione che ha preso in esame ben 26 ricerche, coinvolgendo oltre 73 mila ragazze e donne di età comprese tra i 15 e i 45 anni in tutti i continenti. In Italia proseguono le campagne vaccinali attive a partire dai 12 anni di età delle ragazze. Secondo gli ultimi dati relativi al 2015, però, la copertura vaccinale è in leggero calo rispetto al 2014. Il tasso di vaccinazione è però al di sotto degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale. Cambiare le lenzuole è particolarmente importante, non solo per mantenere la camera da letto pulita, ma anche per preservare la propria igiene. Se non si vuole che il letto diventi un terreno di coltura per funghi, germi e batteri, le lenzuole vanno cambiate almeno una volta a settimana e al massimo ogni 10 giorni. Secondo un microbiologo dell'Università di New York, le spore, le polveri, i coloranti usati sul pigiama, le cellule della pelle, i cosmetici come gli oli e le creme per il corpo, sono tutti elementi nocivi che si depositano sul materasso. Un consiglio ulteriore per una buona prevenzione è quello di prediligere lenzuola traspiranti, realizzate con tessuti naturali come il lino e il cotone. Per questa sera è tutto, ringrazio per l'attenzione e passo la linea allo studio. Grazie. 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 Grazie.